Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi e benvenuti in un altro episodio di Cucina Rilassante con Chiara oggi andiamo a preparare un dolce leggero, direi, in versione leggera, in versione vegetale un classico che è la crostata qui ho gli ingredienti, è veramente un dolce super semplice già vedrete è una cavolata, ci vuole poco in sé per sé per cucinarlo e lo adoro semplicemente, è buonissima e appunto leggera non appesantisce quindi partiamo subito con gli ingredienti farina, io uso quella di tipo 2, che onestamente mi piace molto trovo, non si sente neanche che è semintegrale marmellata di amarene questa è fatta in casa appena fatta, avrà una settimana un limone un limone non trattato perché ci servirà la buccia acqua fredda olio la ricetta c'è di girasole ma io ho quello di arachidi zucchero questo è zucchero di canna integrale che andiamo a polverizzare lievito estratto di vaniglia l'estratto di vaniglia è un ingrediente nato, un kit fatto in casa ho seguito la ricetta del canale che si chiama caro diario di cui è anche questa ricetta in set, la crostate, la lascio giù in descrizione l'estratto di vaniglia non è altro che mi sembra 125 ml di rum e 4 pacche di vaniglia ma vi assicuro a me l'alcool non piace questo non si sente la parte alcolica minimamente e evapora subito un pizzico 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 di sale e vabbè qui c'è la teglia, la mia 24 cm non diametro quindi cominciamo subito con la preparazione e appunto la prima cosa che devo fare è sminuzzare quello zucchero se ce l'avete già a velo meglio però appunto voglio usare quello in generale e ci si mette un secondo lo faccio con il frullatore in versione tranquillamente cominciamo a 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 Grazie. Sì un pizzico di sale andiamo poi con l'acqua e tutto con l'olio 60 grammi di semplice acqua lasciamo che l'acqua, lo zucchero assorba l'acqua completamente lo aiuto un pochino aggiungo altri 60 grammi di olio ora che abbiamo miscelato zucchero, acqua e olio vedete che bello? andiamo ad aggiungere 250 grammi di farina 2 quindi andiamo ad aggiungere la cucchiaia di lievito un cucchiaino di estratto di vaniglia e la scorza di un limone grattugiato sono grattugiata anche i funghi sono grattugiata anche i funghi la pasta frolla è pronta adesso lasciamo riposare in frigo un'ora mentre la marmellata inforniamo un'ora 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 Grazie a tutti. Bene, adesso che abbiamo steso la pasta frolla andiamo a bucarla con una porchetta. Ups, marmellata. Perdonate se ci sono un po' di rumore esterni ma ho la finestra aperta. Grazie. 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 La metto un attimo da parte perché voglio fare delle palline per decorare. Grazie. Grazie. E quindi formate queste palline andiamo a metterle sulla torta. E ora in forno. 180 gradi per 25-30 minuti. Grazie. 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 Grazie.